Ciao, io sono Alessandro, 18 anni e ho appena terminato il mio percorso di studio al liceo scientifico di Conversano. Se dovessi definire questi 5 anni al liceo, lo farei con una semplice parola, con la parola sfida. Io infatti durante questo periodo della mia vita ho avuto la possibilità di mettermi in gioco e di sfidare me stesso grazie a un fantastico team di professori che ho incontrato, che mi hanno accompagnato, indirizzato e supportato durante questi anni. Quindi, grazie al liceo e grazie non solo ai programmi imposti dal ministero che durante le ore mattutine ho appreso ma grazie anche ai progetti pomeridiani, progetti che io ho frequentato, pon, teatro, progetti di scenografia, di arte e di tanto altro ora posso dire che sono maturato e che ho coltivato tante delle mie passioni. Ora mi sento forte dal punto di vista dell'apprendimento e dal punto di vista del sapere perché oggi è importante sapere altrimenti non andiamo da nessuna parte posso sentirmi pronto per affrontare i test che sto affrontando durante questi giorni per l'università perché è per il futuro e quindi è veramente importante fare un buon liceo per arrivare poi all'università e per affrontare il futuro in maniera forte e con la grinta necessaria.